Il progetto di questo musical Doniente mi piace proprio dire e pensare che è stato tutto un susseguirsi di eventi inaspettati, perché io non conoscevo comunque i ragazzi del gruppo di Mortara se non qualcuno ed è nato così, proprio in maniera casuale, perché leggendo un libro, il primo libro di Giovanni Ferrari che si intitola Ho visto un prete, ho scritto per scherzo la prima canzone che poi è diventata l'inno del musical che è appunto la storia vera e la mia intenzione era quella di regalarla alle suore pianzoline, insomma se fosse piaciuta le suore di registrarle in studio e tenerlo come in un po' per i giovani. L'ho presentata a due ragazzi che conosco di Mortara, loro venivano fuori, avevano appena terminato un progetto di Forza Venite Gente e la madre aveva chiesto se era possibile avere un musical su padre Francesco Pianzola e da lì è nato tutto. Don niente il musical è nato da un'idea di madre azia, di interpretare padre Pianzola dal punto di vista anche più di drammatizzazione. Per parlare ai giovani occorreva un linguaggio diverso, quindi abbiamo pensato anche guidati dalla nuova T che aveva iniziato la sua docuficio di interpretare con il linguaggio musicale, con il balletto e anche con il linguaggio stesso dei giovani la vita di padre Pianzola. La 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 domani arriverà domani arriverà lo stesso senti che bel vento non mentre i giovani lavoravano intorno allo studio del personaggio Marco avvigevano senza sapere nulla di questo gruppo che stava preparandosi a questo evento preparava dei canti che interpretavano appunto e parlano della vita di padre Pianzola. Si può dire che dal settembre del 2004 abbiamo cominciato a lavorare su quello che erano i testi, su quello che erano le musiche, era proprio un lavoro che si faceva insieme perché nel momento in cui nascevano delle sceneggiature, nel momento in cui nascevano delle coreografie, delle idee anche del corpo di ballo, io componevo la musica. Alcune musiche sono nate proprio così di mia iniziativa, poi adattate in alcuni momenti del musical, altre invece sono proprio state richieste quindi se c'era magari bisogno di una canzone abbastanza allegra piuttosto che non di una canzone riflessiva e quindi ricomponevo le musiche. Il treno che passa per valle, nomellina, madonna di casa, letto devoto dito, mater mea fiducia la prima volta che ho sentito pronunciare il nome Francesco Pianzola è stato a tre anni alla scuola materna di Mortara. Da lì questo nome mi ha sempre accompagnato, ma forse ho cominciato a conoscerlo veramente in questa occasione, nell'occasione di Doniente il musical. Interpretare la vita di Francesco Pianzola, una bella sfida, un'impresa direi, perché Francesco Pianzola è un personaggio ricco più che un personaggio, un uomo ricco, un uomo dai mille volti, dalle grandi qualità, un uomo che si è definito Doniente. Questa è la cosa che forse risulta essere più contraddittoria per una figura così ricca ed è anche quello che mi ha colpito di più. Un uomo che pur essendo una persona di grande slancio vitale ha saputo mettere a servizio dell'altro gratuitamente tutto se stesso fino agli umiliarsi definendosi un Doniente. Ti saluto Maria, oceano grande, grande perché superi le virtù dei santi e dei beati. Ti saluto Maria, scala per cui Dio discende a noi e noi saliamo a Dio. Ma forse questa concezione, questo suo desiderio, questo suo slancio di definirsi un Doniente è quello che ha dovuto un po' condurre anche me nell'interpretare il personaggio e penso non solo all'interpretazione del personaggio, è quello che poi ha toccato in particolar modo la mia vita. Il fatto di conoscere un Francesco Pianzola, un uomo della relazione, della relazione con gli altri, un uomo che ha saputo vivere pienamente il suo tempo, un uomo della relazione con Dio e quello che ha fatto scattare in me anche il desiderio di un cambiamento, un cambiamento anche radicale ed intraprendere un po' un percorso che mi portasse a dare un nuovo slancio alla mia vita. In un vaso ricolmo d'acqua tuffo il dito e ne estraggo una goccia e questa mi immaginerò di farla cadere in mezzo al mare. La cosa che mi ha colpito di più è il raggruppare questi ragazzi, metterli insieme, creare i balletti, la parte recitata così d'amblè, tutta nuova, qualcosa di mai visto, prendere spunto magari da cose già viste ma renderle nuove. Ricordo un episodio in cui facevamo una specie di laboratorio per creare i balletti e ogni ballerino ha proposto un passo ed è stato molto divertente perché messi insieme tutte le proposte dei ballerini è diventato poi il balletto dei Padre Oblati. E' stato molto emozionante in quel momento metterlo giù, molto divertente e in realtà poi come abbiamo visto lo spezzone dei Padre Oblati è venuto molto bene, è stato molto sentito dal pubblico e anche dai ragazzi che hanno ballato, che hanno partecipato. Beh, la mia avventura con il musical Pianzola è nata nel gennaio del 2006. Questo lo voglio dire perché è stato un po' un incontro così, molto casuale, molto anche fortunato, devo dire. Io sono un pendolare, lavoro a Milano, con me quella mattina sul treno c'era il Marco Cresci che chiacchierando, come si fa con tutti i pendolari, si chiacchia e fa guarda sta nascendo una cosa, un musical. Una sera ho detto, vengo a vedere le prove, sono andato a vedere le prove generali e devo dire che lì è successo, non lo so neanch'io cosa dire, cosa sia successo, però ho visto questo gruppo di ragazzi così affiattati, ho visto una prova generale, ho capito che cosa stavano mettendo in scena, ho capito l'entusiasmo che c'era in questi ragazzi e allora ho detto va bene, ok sono con voi. Fino al punto da far sorgere un gruppo di quasi 80 persone, anche forse qualche volta in più, che lavorassero e si confrontassero anche sul modo di vivere la vita ecclesiale da un certo punto di vista, nel donarsi agli altri anche con le attitudini che uno possiede. E allora cosa ho fatto? Con le luci ho semplicemente cercato di trasportare in scena ogni singola situazione, il musical è di fatto la vita di padre Pianzola, io ho cercato con le luci di trasportare quella emozione con le luci, cioè aiutare sia chi è in scena e valorizzare chi è in scena, perché chi è in scena in quel momento dà l'anima, ho cercato io di aiutare lui a far percepire al pubblico quell'evento, quel momento. Don Francesco, io prima lo considero un uomo e poi un sacerdote, perché la sua umanità è emersa completamente e in modo chiaro in tutta la sua vicenda anche di vita sacerdotale. Un uomo che non ha saputo nascondere il suo vissuto, un uomo che non ha saputo nascondere le sue emozioni, ma che le ha vissute pienamente, le ha giocate nel suo servizio agli altri, ha accettato, integrato in se stesso anche la sofferenza, l'accusa, la tribolazione, tutto dono di Dio, tutto offerto a Dio. È una sfida questa per la vita di ciascuno di noi e per la mia vita, offrire tutto a Dio. Forse se fossimo in grado di prendere solamente un pizzico di questo suo slancio, di questo suo coraggio, di questo suo non aver paura di affrontare la tribolazione e di affrontare proprio le sfide del nostro tempo, faremo passi da gigante. Visto che il nostro tempo di sfide ce ne pone tante, allora proprio in Lui forse dovremmo proprio individuare questo modello e cercare di farlo proprio. Una vita donata agli altri, una vita radicata nel presente, per aprirsi però al futuro, un futuro che non conosciamo, ma che sicuramente con l'aiuto di Dio e collaborando con Dio possiamo cambiare e migliorare. Il gruppo continua, speriamo che abbia un futuro anche proprio attraverso questo grande risultato, possiamo dire davvero grande, come diceva padre Pianzola, se io sarò un doniente, una piccola cosa nelle mani di Dio potrà essere onnipotente. Annunciata Eugenia Rosina Annetta Luigina Anna Luigina 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 Luigina